Allora, questo è il campo delle rose, stamattina siamo partiti dal Lagazio di Arezzo e quello è l'esempio di come deve essere un istituto e qui c'è il desiderio di farci produttare come i ragazzi. Vedete che i presupposti ci stanno tutti, un posto meraviglioso, un paradiso che dovrà diventare il paradiso per questi ragazzi perché se lo meritano loro e le famiglie. C'è tanto da fare, da lavorare, servono finanziamenti, servono aiuti però ce la stiamo mettendo tutte, chi in un modo, chi in un altro, le famiglie si muovono con delle iniziative stupende. Noi ci mettiamo la beneficenza che riusciamo a fare con gli eventi sportivi e cerchiamo e speriamo di un giorno portarlo a compimento come i ragazzi, più bello dei ragazzi. Aspettiamo l'arrivo dei... Sì, sì, c'è ancora un'arrivo. Sì, sì, c'è ancora un'arrivo.